Sono Federica, ho 17 anni e frequento l'Istituto Grazie alla Fumadaglia Casatenovo. Ho fatto 6 settimane di alternanza qua da Timlingue a Nelate. Mi sono principalmente occupata dell'ESA in Cambridge, ho imparato a rispondere al telefono, cosa che prima non facevo, ho preparato il materiale per il summer camp. Consiglierei di scuro a tutti perché qua si parla molto l'inglese, soprattutto con i decenti, che sono principalmente madrelingua e mi sono abituata un sacco a andare alla mia pronuncia. Dalle mie esperienze passate pensavo di trovare un personale rigido e invece no, sono tutti molto carini, simpatici e divertenti.